buongiorno altro video caricato per tenere vivo il canale e per tenere un po di compagnia in un periodo per dove si sta avvicinando si sta avvicinando anche il 3 dicembre per la fine per vedere come sanno come sarà la situazione in italia e poi ci sono cose importanti magari ve le mette nei post giacomino ma detto io non non posso fisicamente ecco parliamo di cinema parliamo di un regista chiama est antipatico lo dico subito stati patico ma questo non significa che lo lo lincerò a prescindere però mi rifaccio una live fatta tempo fa dal mattino loro in bocca c'era un ospite palesemente fan di dagli argento ai miei obiezioni nei commenti sulle qualità di argento mi sento rispondere quando vedrà un regista che riempie uno stadio per vedere un suo film allora potrei dire che un agista potrei parlare di queste cose allora ragionando così dovremmo dire che i film di aderano e celentano sono dei capolavori perché in russia sono stati campioni d'incasso o di visualizzazioni televisive fin di celentano sono mediamente delle merde tranne uno john louis che è neanche indefinibile perché al confronto di john louis anche la merda e oro e oro e cioccolata perché è una cosa inguardabile e anche in russia ne ha fatto schifo anche russa per dire se devo misurare le qualità di un regista sul numero di persone che vanno a vedere un film al lavoro dovrei dire che i due avenger sono dei capolavori e invece sono delle cagate soprattutto se vengono raffrontate alla saga alla saga fumettistica e dove passare soprattutto perché valgono soltanto i numeri allora michael bay che come regista è un cane è uno dei peggiori che ci siano in circolazione è un grande regista perché fa numeri no non è così non funziona così voglio parlare della gente perché l'avvento secondo me io sono d'accordo con quello che disse un altro canale che si chiama struncando l'orrore che un registro è sopravvalutato perché lo ritengo sopravvalutato perché ha fatto di grandissimi fi suspiria profondo rosso anche inferno anche primi di cristallo il gatto nove code da sette mosche di veluto grigio quali erano ottimi film o nel caso di suspiria e il profondo rosso dei capolavori uno del trailer uno dell'oro non dite che spiega un oro perché non c'è perdono dite che il profondo rosso un oro perché non è un oro non agli stile mine loro non ai canoni un thriller punto mai dopo e dopo che ci sono i problemi già con tenebre io me lo ricordo il fatto di voler far capire che l'assassino fin dalle prime inquadrature lo fa anche in profondo rosso se uno guarda non faccio sto grande spoiler penso che l'abbiamo visto tutti basta che uno durante la carrellata di emmings che va a soccorrere la meglio guardi un attimo a sinistra e vede la e vede l'assassino anche lì viene dato un suggerimento all'inizio che ti fa capire chi è l'assassino tra l'altro quel suggerimento lì poi non si sposa esattamente con la storia c'è c'è un incongruenza di fondo che è abbastanza pesante va bene tenebra dico è che dopo sempre peggiorato lui non ha più avuto un picco lui è arrivato a quel punto ci è arrivato inferno e poi da inferno in giù si è messo su una linea che all'inizio era abbastanza orizzontale rispetto un po calante rispetto inferno ma comunque orizzontale poi è caduto giù in picchiata cioè roba come la terza madre roba come il cartaio un regista è normale ma neanche la zailon fa simili cose cioè il cartaio è uno dei film più brutti della storia del cinema italiano fatto malissimo attori fuori parte che recitano tutti quanti nove rating o sotto le righe per cui non capisci neanche la trama inconcludente non ha senso non ha una logica stiamo parlando di un thriller e non parliamo di un oro allora una differenza sostanziale che il trailer dovrebbe comunque avere degli elementi realistici più dell'or un giallo un giallo deve essere costruiti in modo che le situazioni che si verificano siano comunque accettabilmente verosimili nel cartaio no non è verosimile la polizia viene rappresentata nello stesso modo in cui l'autore di silenzio degli innocenti rappresentò la polizia italiana nel suo terzo libro cioè Hannibal c'è un branco di disperati che hanno un computer solo impolverato cioè come quanti con tutti i fighi e la polizia italiana tutti i barboni quantico sono gli stessi minchioni hueco e di altre cose di hueco delle teorie gemelle così c'erano loro non c'era mia nonna però vi viene data questa illustrazione ecco anche lì viene riproposta il soltice viene chiamato il fratello di mucino che mamma mia vederlo recitare come mettersi un paio di scherpe strette ma non di una misura in meno di dieci misura in meno è una roba indecente tutto il cast non recita bene tutto uno che fa questi film può capitarti lo scivolone capita tutti è io quando sento parlare di ice one shot che la colpa del fatto che il film è palloso come pochi ed spilberg si è vero l'ha montato spilber ma non penso che spiegare sia il primo che passa la strada però io dei dubbi che fosse un bel film anche da anche montato da cubri è palloso di base è pallosa la storia di base è pallosa è pallosa è ridondante e tronfia lo si può dire o siccome l'ha fatto kubrick girato cubri montato spilber e non si può dire perché è kubrick poi uno può giustamente farmi un mazzo tanto dal punto di vista tecnico io non sto parlando dal punto di vista dell'impressione umane dell'impressione dello spettatore io me lo sono guardato tre volte col film tre volte è stato come darsi tre martellate sui marroni è noioso noioso che per un film che ho detto tutto non dura dieci minuti dopo venti minuti ti sei rotto i coglioni ecco io vedo la stessa cosa nei film di di nel cartaglio il cartaglio è noiosissimo è difficile arrivarci fino in fondo la terza madre la terza madre è un filo medio del cartaglio solo perché il cartaglio dal punto di vista cinematografico è una fogna è una fogna ma la terza madre considerati i due film precedenti del cui doveva derivare è uno splatterone volgare con attrici soprattutto trici di attori fuori parte con delle soluzioni imbarazzanti dal punto di vista cinematografico questa che se nascondi in un angolino non la si vede dai per piacere cioè se il polizzato ne andava ancora un po con doveva stamparsi nello spigolo della libreria le porte delle delle stazioni ferrovie cioè le porte dei cessi delle ferrovie che devono essere fatti in adamantio perché sfonde la testa a una strega che due secondi prima aveva ammazzato uno tra l'altro l'attrice che fa la strega era quella che faceva distretto di polizia romana roma che non ha distrutto di polizia perdona ris roma che parlando di serie il ris all'inizio con flyer ti era penso che fosse player di no era accettabile come se la versione romana è una merda che non finisce più dalla protagonista principale che è simpatica quanto sedersi su una sedia piena di chiodi uguale ma quelli sono attori da sita fiction si vede che sono attori da fiction e lo dimostrano tutto tutta la loro pochezza in questo senso poi c'è esergento come protagonista asia argento sta alla recitazione come io sto alla danza classica non c'entrano niente di uno con l'altro e poi te la trovi sempre lì lei recita grazie al padre perché se suo padre non fosse quello che non fosse un ammanicato perché dopo parliamo di dracula 3d o cazzo che uno chiama l'argento l'ha fatta recitare romero perché romero era era amico di argento ma quando la vedi nel nel film con insieme a simon becker quello che faceva il mentalista e con danny sopra ti cadono le palle meno male che l'ha andoppiata mancava solo che parlasse in accento romanesco c'era mancava solo quello già capisci che questo regista dato la frutta oltretutto la scena la scena di daia nicolodi in versione robin one kenobi tutta azzurra che dice la figlia usa il tuo potere mancava usa la forza e questa tirava fuori la spada laser cioè ti rendete conto che così un film diventa non diventa neanche 3 da ridere diventa semplicemente stronzo come film però era un filo medio del cartaglio ma perché dato il cartaglio era impossibile far peggio poi tira fuori giallo giallo allora giallo ai due attoroni della madonna al di là delle battute di qualcuno sul naso di di adambrodi giustamente non avendo una napina piccola mi sento toccato di persona adambrodi ha vinto un oscar con il pianista di polanski non una parte facilina e comunque io le volte che l'ho visto recitare l'ho sempre visto recitare bene sempre anche in film non proprio che non sembrano proprio scritti per un personaggio così come predators recita bene comunque anche lì per quanto fissi a quello che è in questo film fa creare e male segnere anche lei una brava attrice non è sto campione sta campionessa come viene tra qualcuno secondo me ma è un parlare personale fosse perché esteticamente non mi piace già una mandibola che sembra quella di di stallone vabbè ma a parte queste stupidaggini è una brava attrice anche lì città da cani ma per recitare così male quanti sono le responsabilità dell'attore tra l'altro vediamo poi c'era pur avuto discrete ragioni perché il signor argento questo pezzentone non lo pagò dovete mandare in tribunale per farsi dare i soldi argento fece dei maneggi per non per non pagare niente distributore che c'era da vergognarsi tipiche cose da regista con le pezze l'argento non è un regista con le pezze ci troviamo una trama sciarfa un cattivo patetico che lo stesso alle modi e faccio un po di spoiler lo sapete che io me ne frego abbastanza tanto guardate così meglio se le evitate un finale idiota la segna è che è veramente è non so forse era d'accordo con l'assassino perché più che far casino non fa per una sorellina scema e il titolo giallo non è riferito al fatto che sia un thriller che sia una cosa investigativa ma il fatto che l'assassino ha l'itero l'assassino soffre di ittero e giallo mi rendete conto della pochezza mentale della cosa della pochezza qualitativa cioè l'idea stessa è stupida però argento la passa argento la passa poi arriva una cosa come dracula 3d allora qui si toccano i pilastri della letteratura non parliamo della letteratura or della letteratura del terrore o così qui parliamo dei pilastri della letteratura perché se uno mi prende dracula o il frankenstein di mariscilli e me li togli dalla letteratura uno si incazza perché sono capolavori della letteratura tu mi prendi un dracula me lo sminchi come ha fatto l'argento perché veramente lo ha sminchiato a un certo punto dracula sembrava di vedere mario mero un incrocio tra mario mera e nino d'angelo cioè mancava solo la 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 il neomelodico non voglio offendere però lo sapete benissimo che mario mero ha fatto un determinato tipo di cinema d'angelo la stessa cosa non puoi mettere quelle caratteristiche dentro un personaggio come dracula però sente a vedere il film ti viene quell'idea ti vedi dracula trasformato in mantide religiosa ma dove cazzo l'ha visto in un libro di da che parli dracula dracula che si assomano un insetto ma che senso ha però per cento va bene così quando vi dico che argento è ammanicato perché per quella porcata di dracula argento prese anche dei soldi della regione lazio dei contributi a fondo perduto non è una cosa inusuale li diedero anche al finché fece roberto d'agostino non mi ricordo il titolo vi dico solo che una merda come quel film veramente ecco se vogliamo dire qualcosa di peggio del cartaio e finché fece roberto d'agostino il film pagato dallo stato italiano tanto per buttare soldi nel cesso non era un film era carta per pulirsi lo sapete anzi pellicola per pulirsi quel che sapete e c'era da vergognarsi ad avervi partecipato faceva sembrare fin con gerry calade il capolavori della comicità però dico dracula l'ha letto argento oppure pensa che aver sentito qualche cosa aver visto qualche cosa perché dracula nel tempo è cambiato molto cioè se pensate che il nosferatu di murnau che era basato sul libro di dracula solo che gli eredi della famiglia stoker non erano d'accordo non diede all'autorizzazione perché giustamente murnau c'era quello che ci aveva non poteva pagare gli diritti piantarono un casino poi spaventoso tanto che le numerose coppie che vedete in giro montati in un modo con la musica senza musica a colori non a colori così derivano anche da quella situazione solo fatto che il film fu salvato per miracolo dalla distruzione però era basato comunque sul dracula cioè sull'idea di fondo di dracula la ricostruzione che poi ne ha fatto erzo che è un omaggio a quello di murnau di decine centinaia di ravi fin sui vampiri ne hanno fatti più di 200 con diverse visioni del di dracula dal dal mostro cioè da bella lugosi con le ciglia che ci potevi parcheggiare i tacchini sopra a quello di christopher lee tutto elegante a quello di l'angella cioè ragazzi ne ha fatti tantissimi a quello di di coppola ne ha fatti tantissimi ma nessuno è arrivato ai livelli di abiezione del dracula che ha fatto che ha fatto che ha fatto d'argento partendo da comunque da mezzi economici sufficienti per fare un buon film perché dracula nel film perché dracula deve trasformarsi in gufo e non in pipistrello faceva troppo non trovano trovato un pipistrello vero non era un gran problema visto che nel fin ci sono i ragni di gomma cioè li ho usati anche fulci ragni di gomma nell'aldilà quando c'è l'archivista cade e viene a perché vede che la casa un pezzo che che poi scompare sotto i suoi occhi cade dalla scala viene assalito dei ragni che quali sono ragni finti si vede a occhio nudo si vede perché poi siamo nel 2020 quello fin degli anni ottanta ma pur vedendosi a occhio nudo capisci che fulci aveva un centesimo del budget di di argento ci aveva le pezze si è arrangiato con quello che poteva ma rimane il fatto che tutta la costruzione della scena è forte è forte perché questi questi ragni che mordono il bibliotecario perdono l'archivista entrano in bocca così ti dà comunque un bel impatto pur nella pochezza del mezzo questo aveva i soldi aveva il suo staff perché aveva stivaletti e simone e produce una cagata con un un gufo che non c'entra in cazzo con dracula un ragno de gomma e le scarafagge che si fanno a passeggiata l'amantide religiosa dracula che parla che sembra mario mero l'aubriaco guti rauer che poverino c'è vabbè sapete che dopo un po la carriera ognuno possa da sbricola da solo non è una critica l'attore che molti attori hanno fatto fin di merda anche attori che adesso sono famosissimi poi me andate un po riguardare la carriera un fin di merda lo beccate di sicuro che sembra l'incrocio non tra vane non è vanessi in quello lì ma sembra il vanessi in quella cagata fatta con con l'attore di wolverine che adesso non mi viene in mente il nome io jackman e e hulk perché ammazza i vampiri a mani nude pianta paletti a mani nude fa tutto spara delle minchiate che ti ha morso ma non è bevuto sul sangue non diventerà una vampira ma è bella strana e allora scusa gli altri come cazzo hanno fatto a diventare vampiri non hanno bevuto il sangue di dragola gli amorsi lui e basta ma le basi del libro non le avete proprio lette e tutto sto circo per fare cosa un drammone in cui le differenze non sono giustificate cioè il fatto che alla fine invece di essere jonathan harker a uccidere il vampiro è la 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 moglie che poi giuna ma che era sposato con con comina che è la lamina anche che sopravvive ammazza è tutta fuffa è tutta fuffa che oltretutto viene anche giustificata da alcuni non perché c'è della qualità dietro ma perché l'ha fatta argento e io mi chiedo ma se una cosa è fatta di merda è fatta di merda non è importante cioè non è che tutto è accettabile allora mettiamola così da storico spartacus di cubi a me piace un casino è un film stupendo è meraviglioso da spettatore da storico vorrei vedere se se cubi fosse ancora vivo lo inseguirei per seggiolato in fronte perché le puttanate del fischietto del del fischietto a bocca della scuola dei gladiatori non si possono vedere la ricostruzione dell'ultima battaglia di spartaco è una balla non è non è andata proprio così ma neanche non c'entra neanche in cazzo tante cose sono sfalsate nel film però cazzo le rappresenti bene puoi spiegarlo agli americani che spartaco non era sto gran genio militare sto gran stinco di sant'avanti c'aveva dei cani cioè diciamola tutta marco l'icino crasso era una roba cioè la qualità di crasso la si è vista carre ecco quattro sperloni dai parti cioè lui se l'è svangata quando è arrivato pompeo che lì nel fino viene mai nominato praticamente però è neopompeo che salva il culo a crasso non il contrario non viene nominato il vallo costruito da spartaco per per tagliare una parte dell'italia tante cose vengono saltate però la costruzione è talmente bella che ti appassiona dall'altra parte dall'altra parte abbiamo uno che non sa costruire qualcosa partendo da un capolavoro della letteratura io non lo so se le responsabilità sono solo di argento però io vedo il nome di argento un esempio banalissimo argento doveva finanziare la maschera di cera fra la generale fulci fulci era malato non poter fatti sentire morì poco dopo non mi ricordo il nome del registro della della maschera di cera sono sincero però io avrei voluto vedere fulci con i mezzi che argento affronta quel regista come avrebbe tirato fuori la storia perché la storia per metà e la rottura di valle diventa un po a vincente un po più emozionante perché orrore lino sinceramente se vi spaventate con la maschera di cera e così ragazzi avete pure anche di topolini non ce n'è molto c'è un po di nudità un po di sangue vabbè e basta se la protagonista femminile la mondello il protagonista maschile usain l'hanno tirato fuori dalla naftalina delle dei film sulla cos'era la principessa austria non mi ricordo neanche il nome ragazzi qui purtroppo sono finché con tutto l'amor del mondo uno non riesce a guardare quella roba erano fin del periodo che sono invecchiati non invecchiati male sono invecchiati da carta pecora e avrei voluto vedere fulci con quei mezzi che funziona mai avuto quei mezzi forse all'inizio quando faceva le commedie con franco e ciccio ma lì i mezzi che servivano per fare le commedie con franco e ciccio ma comunque bassi limitati invece argento ha sempre avuto i mezzi all'inizio li usava bene dopo usati male gli avuti sempre peggio anzi sembra quasi che si è entrata in quella modalità per cui ti consideri un genio e a prescindere dallo schifo che fai la gente deve bersi la tua brodaglia ma non è così c'è un film che toppa un film che toppa cioè se la gente non va a vederlo non va a vedere non è che la gente non va a vedere perché è stupida la gente non va a vederlo perché non riesci ad attirarle le persone non riesci a a stimolarle non riesci ci sono film troppo difficili o comunque ostici che magari respingono gli spettatori tipo madre di di aronoschi è un film ostico cavolo se ostico da guardare ma è un signor film i tuoi la gente non va a vedere perché fa schifo cioè non c'è una giustificazione dietro per cui sono troppo difficili per le persone sono troppo complicati così no sono film che fan cagare cioè è banale e allora siccome ne hai azzeccati un po all'inizio ma dopo è stata una catena a discendere ed è sempre stata una catena a discendere non c'è avuto dei picchi in quella catena a discendere perché da tenebre in giù è sempre stata una discesa non c'è mai stata una risalita è sempre stata una discesa poi ragazzi nessuno vi dice che fenomena o il fantasma dell'opera l'opera è l'ispirazione fonte di ispirazione anche lì trattata mai non possono esservi piaciuti perché un discorso il gusto personale un discorso è la valutazione di determinate cose che non vanno non sono film all'altezza dei suoi primi per questo dico secondo me non si può dire argento è un genio grandissimo perché ha fatto determinati film perché se poi se tre quarti dei tuoi film fanno obiettivamente sono un mediocre o peggio qualche dubbio ti viene qualche incertezza ti viene sulle valutazioni della sua genialità complessiva già per farvi un esempio michael cimino l'ultimo che ha fatto i cancelli del cielo non se lo avvise nessuno anche perché era lungo come la quaresima cioè il confronto 900 era una passeggiata di salute nonostante ciò era un gran film quindi il problema è che finchia estremamente erostico e pesante qui non è non si può usare stesso principio quindi film è noioso boh al netto di questa una bella chiacchierata al suo argento guardatevi questo video se lo volete guardare intanto è per tenere il canale non moribondo noi ci sentiremo nel prossimo video che caricherà giacomo non lo so quando e non so neanche di cosa e caricherà perché ho detto fai tu mentre io spero di tornare presto per con tutti voi ciao a tutti